Non voglio più farlo aspettare perché non è proprio il caso, do il benvenuto, anzi dico che sono felice di ritornare a conversare con Daniele Aristarco in collegamento con noi. Ciao Daniele, buongiorno, bentornato. Non ti sento, eccolo qui, ok, eccolo qui. Prego Daniele, scusami. No, ti ringrazio, buongiorno a te, è bello anche questo bentornato, insomma, è bello ritrovare te e le persone che ci ascoltano. Allora intanto io sono veramente molto felice di ritornare a conversare con te perché lo dicevo anche e soprattutto a beneficio dei nostri spettatori e ascoltatori più attenti che seguono le cose di RBI, le nostre dirette, le nostre riflessioni, i nostri contributi. Daniele Aristarco che è stato ospite di almeno due pagine al giorno con una bella resistenza verso la fine dell'anno scorso. Per quanto riguarda la newsletter di RBI, Crackers, che insomma vi invitiamo a seguire, anche a sottoscrivere, che è una newsletter periodica nella quale decidiamo di prenderci il tempo di riflettere sulle cose, su un tema, ma ha raccolto il contributo preziosissimo questa volta sul 25 aprile proprio di Daniele Aristarco che si è generosamente prestato a riflettere con me, che ho gestito e ho curato la newsletter, i temi soprattutto rispetto alle nuove generazioni, rispetto alla resistenza e al 25 aprile. Noi qui oggi invece siamo nuovamente a dialogare, a conversare con Daniele Aristarco intorno ad un libro, al nuovo libro di Daniele Aristarco. Ecco qui per voi che ci seguite anche sul canale 87 del Digitale Terrestre, questa è la copertina di Come Vento di Daniele Aristarco, la giornata che mise fine alla guerra, pubblicato da Mondadori Ragazzi il 23 aprile del 2024 di quest'anno. Daniele, allora prima di entrare dentro la carne diciamo dei temi di questo libro, tra l'altro ti ringrazio ulteriormente perché ci dedichi tutto il tempo necessario anche che copre questa puntata di almeno due pagine al giorno, che di solito è una puntata come dire che racconta notizie, spunti, riflessioni, che è una rassegna stampa che molto spesso comprime anche i tempi delle interviste, questa volta grazie alla tua disponibilità tutta la puntata sarà in tua compagnia, io sono veramente molto felice di questo. Daniele volevo portarti intanto su un tema, che è un tema che so che comunque ti è particolarmente caro, che potrebbe apparentemente esulare dai temi del libro ma non lo è, insomma ovviamente non abbiamo concordato nulla di questo, però so che insomma è un tema che ti porta molto a riflettere, il tema delle migrazioni perché siamo nuovamente qui a raccontare il mio collega Alessio Lerda con la sua rassegna stampa Play, lo ha raccontato anche stamattina con testimonianze dolorosissime dell'ennesimo naufragio in mare e leggevo stamattina anche sull'Ansa anche delle modalità diciamo di questo duplice naufragio nel Mediterraneo con decine di vittime, un altissimo numero di bambini, insomma due giorni dalla giornata mondiale del rifugiato di dopodomani, io insomma sento di doverti chiedere un pensiero, una riflessione rispetto a questa ennesima continua e sembra quasi inarrestabile tragedia umana nei mari rispetto alle persone che tentano di attraversare il mare per un orizzonte un po' più sereno, so che suona tutto retorico, però insomma mi piacerebbe sapere il tuo pensiero Daniele. Purtroppo naturalmente io sono d'accordo con te, è proprio un misto di stupore e di dolore di fronte a queste notizie, posso dirti che il lavoro che faccio quotidianamente nelle scuole con le ragazze, i ragazzi, anche con le bambine e i bambini è quello di provare assieme ad attraversare, a confrontarci con queste notizie e la prima reazione che trovo mi fa sempre pensare all'appendice di se questo è un uomo, sai che Primo Levi per tanti anni è andato nelle scuole a raccontare il suo libro e lui raccontava, dopo tanti anni, che la prima domanda che gli veniva posta dalle ragazze e ragazze in classe era ma è successo davvero? C'era una sospensione della credulità perché per fortuna con il tempo che passa, con il fatto che ormai le nuove generazioni erano nate in un contesto completamente differente, si sentivano tutelati anche, quelle storie sembravano lontane, quasi impossibili. Primo Levi riflette su quella sospensione, su quell'incredulità e dice, beh, dobbiamo continuare a raccontare questa storia in modo che non si ripeta, almeno che sia compresa. Oggi noi ci troviamo di fronte a una sfida ancora più complicata e cioè tutte queste notizie arrivano alle ragazze e ai ragazzi come spesso come racconto di qualcun altro, di qualcuno che viene da un'altra dimensione quasi e questo ci porta ad affrontare queste notizie con un senso quasi di estranietà. Per quanto umanamente possiamo essere colpiti, però ci sembrano sempre le storie degli altri. Ecco, forse quello che ci sta insegnando questa epoca è che invece dobbiamo ricominciare a leggere i fatti, a vivere i fatti con un senso nuovo perché molti di quegli eventi che ci sembravano del passato, anche di un passato consegnato e chiuso, sono strettissima attualità. Quello delle emigrazioni è un tema che il nostro paese ha vissuto in maniera anche drammatica per oltre un secolo e che continua a vivere in realtà perché gran parte delle ragazze e ragazze che incontro hanno fratelli maggiori, cugini, sorelle eccetera che sono in giro per il mondo a cercare di dare senso a quello ai loro studi. E così per quanto riguarda il fenomeno della guerra, che per molto tempo è sembrato quasi alle ragazze, ragazze a scuola, un evento del passato che si legge sui libri e adesso invece cominciamo a capire che purtroppo è ancora uno strumento utilizzato dalla politica, anche se in maniera differente forse rispetto al passato e poi magari di questo se vuoi parleremo più avanti. Assolutamente, ma intanto per tornare, anche per cominciare diciamo a riflettere con te Daniele rispetto al tuo nuovo libro, ripeto ecco qui, come essere vento, la giornata che mise fine alla guerra tu torni a maneggiare quella materia, insomma per quanto mi riguarda, ma per molti di noi insomma che è la materia della storia con la S maiuscola, sempre affascinante, che va studiata, che va approfondita, che va diciamo conosciuta dentro le sue vene per poter evitare anche, anche qui questo potrebbe suonare retorico, gli errori del passato, tu lo racconti, lo racconti da sempre dentro anche le altre storie che hai raccontato sulla resistenza e non soltanto diciamo, perché racconti una giornata particolare, insomma per fare un riferimento anche un po' cinematografico, che è quello dello sbarco in Normandia, quest'anno ricorre l'ottantesimo anniversario, tu in realtà cominci a raccontare attraverso diverse voci, questo è l'elemento della coralità diciamo che torna dentro la tua scrittura, il tuo racconto parte dal giorno prima di quello sbarco, attraverso diverse voci che in realtà, come dire, attraverso anche le più disparate emozioni, perché adesso insomma tu ce lo racconterai sicuramente meglio, di diverse voci, attraverso anche la paura, il coraggio che uno si dà, l'amore che può sperimentare, la passione professionale per il lavoro che si fa, si prova ad andare incontro ad eventi storici enormi, se vogliamo, che sono diciamo in questo caso anche un po' la chiave di volta diciamo della seconda guerra mondiale, e che raccontano diciamo anche molto di quello che siamo, di quello che dovremmo essere, o questo diciamo è già un po' un elemento di arroganza diciamo da parte di me che ho interpretato in questo modo se vogliamo, almeno in apertura diciamo il tuo libro, che questa volta è un romanzo, corale ma è un romanzo, possiamo definirlo così? Assolutamente, in realtà sono otto racconti incastrati che compongono un romanzo, hanno come scopo quello di raccontare i giorni precedenti, il giorno dello sbarco e i giorni immediatamente successivi da più punti di vista, per quale motivo? Perché intanto mi sono reso conto di questa cosa Francesco, che a scuola quando si parla con le ragazze e ragazzi non solo, anche quando parliamo con i figli, con i giovani, dell'importanza della pace, spesso indichiamo la pace come qualcosa di troppo vago, è un po' come se dicessimo ad un bambino di lottare, di darsi da fare per salvaguardare la sedia sulla quale è seduto da sempre, la prima domanda ci farebbe è per quale motivo e chi la potrebbe mai insediare. In realtà secondo me abbiamo una difficoltà anche noi adulti, cioè facciamo un esercizio ormai di immaginazione, perché molti tra noi la guerra non l'hanno vissuta come esperienza reale e la pace della quale gioviamo è un risultato che ci siamo un po' trovati. Quindi questo esercizio è davvero complicato. Allora io penso che bisogna lavorare su due livelli ed è quello che cerco di fare sempre con i miei libri. Da una parte nel cercare di capire che la pace e la democrazia sono compiti quotidiani, quindi richiedono l'impegno di tutte e di tutti ed è qualcosa che va avanti nel tempo, è molto complesso. Ma per riflettere sulla pace bisogna conoscere effettivamente che cos'è la guerra. E mi sembra di vedere in questo momento intanto una difficoltà da parte anche del mondo adulto di confrontarsi con la guerra. Noi sappiamo che sono in corso più di 160-170 conflitti nel mondo, ne stiamo raccontando fondamentalmente due e li stiamo raccontando come si raccontavano un secolo fa, cioè con un solo punto di vista nella maggior parte dei casi. Abbiamo difficoltà a confrontarci con tanti punti di vista. Allora io penso che la storia dovrebbe essere sempre raccontata in maniera corale e credo che il peso vero della guerra, per essere compreso, deve essere visto dal punto di vista dei civili. Quindi in questa storia io mischio personaggi reali e personaggi ispirati, in realtà personaggi reali, per raccontare quello che è stato la sbarco in Normandia dal punto di vista dei civili, dei soldati anglo-americani, ma anche di quelli dei tedeschi. Tra i personaggi c'è un bambino che appartiene all'Hitlerjugend, cioè alla gioventù hitleriana, che è un fervente nazista, ma racconta perché è un fervente nazista. E poi ci sono alcuni testimoni che effettivamente erano lì in quei giorni. Tra questi c'è Robert Capa, che è il famoso fotografo degli scatti più noti che conosciamo di quello sbarco. C'è Marta Gellorn, che è stata una grandissima reporter di guerra. E poi ci sono due pagine di diario di Anne Frank, delle quali se vuoi parleremo un po' più avanti. Ma ecco, credo che l'operazione che ho cercato di fare è questa, cioè di riportare, come dicevi tu, la storia con la S maiuscola a livello degli esseri umani per raccontare quali sono gli effetti della violenza su chi la subisce e anche su chi la esercita. A me lo sbarco in Normandia a scuola era stato raccontato come la più grande operazione bellica anfibbia. Io da bambino gli anfibbi ho pensato, insomma, degli animali, no? E mi sono reso conto, Francesco, che ancora sui libri viene raccontata così. Esatto. Quindi, in sostanza, ci sono due errori, secondo me, in questa operazione. La prima è che quando diciamo, in questo tipo di racconto, quando diciamo una grande operazione bellica è un po' come se la stessimo esaltando. Noi a grande operazione bellica dovremmo cominciare ad associare la devastazione, la strage. Intanto è una questione di linguaggio, no? Prima di tutto è una questione di linguaggio. Assolutamente. È anche quel linguaggio che poi ne abbiamo mutuato in tanti altri contesti. Qualche giorno fa ho intravisto la partita degli europei e dell'Italia e racconto anche lì della cronaca, la radiocronaca, insomma, che veniva fatta, era comunque, no? Quello è il vocabolario. E l'altra questione è che nei libri viene messo un evento dal quale io sono partito per raccontare questa storia, cioè che nei giorni immediatamente precedenti allo sbarco le truppe anglo-americane bombardano le principali stazioni, principali autostrade, eccetera, luoghi di collegamento, che erano poste alle spalle della spiaggia dello sbarco per tagliare la ritirata ai tedeschi. Questo significa che gli anglo-americani hanno bombardato creando un gran numero di morti tra i civili. È una di quelle che noi ci siamo abituati a vedere come conseguenze della guerra, no? Quando si dice... Gli effetti collaterali. Esattamente. Ecco, io sono partito da questo evento per provare ad entrare in quella che è stata anche un'operazione contraddittoria, con dei costi altissimi e secondo alcuni storici poi forse addirittura evitabile. Però ecco, ho cercato di raccontare quell'evento stando stretto sui documenti e cercando però di dare spessore a quelle che sono, come dicevi tu, le emozioni, la vita che si è mossa intorno a questa storia. Allora, intanto, insomma, aggiungo che la scrittura di Daniele Aristarco è sempre una scrittura, diciamo, molto, molto emozionante e quindi torneremo su questo. Parleremo anche di scrittura perché leggevo di alcuni tuoi colleghi che dicono, insomma, durante le presentazioni o durante le interviste non mi chiedono mai, diciamo, non si parla quasi mai di scrittura. Io questa volta, oggi, voglio chiederti anche delle cose sulla scrittura. Cambiare il mondo, canta Eric Clapton, ma in ogni caso, attraverso la scrittura si prova, quantomeno, diciamo, a tracciare delle traiettorie differenti. Ci siamo lasciati prima della pausa su questo, diciamo, su questo tema, il tema della scrittura perché, intanto, ripropongo ancora la copertina di come essere evento la giornata che mise fine alla guerra di Daniele Aristarco, pubblicato da Mondadori. perché leggevo qualche giorno fa alcune lamentele di alcuni tuoi colleghi scrittori che dicono, durante le presentazioni, durante le interviste, si gira sempre intorno, si ronza intorno ai contenuti del libro appena uscito, ma in realtà si parla sempre molto poco di scrittura, no? Allora, siccome da queste parti non facciamo mistero del fatto che ci piacciono molto, ci piacciono le storie, ma ci piacciono molto di più le storie corali, diciamo. Allora, possiamo tornare sulla tua scrittura che, diciamo, alla coralità attinge, diciamo, in maniera molto, molto ampia, diciamo. Fammi fare la domanda banale, diciamo. Ma da dove parti quando decidi di scrivere un libro a più voci, diciamo? Quali sono, anche, diciamo, dal punto di vista proprio di tecnica, se vogliamo, in poche battute, insomma, se puoi e se hai voglia, per costruire un libro a più voci, diciamo. Daniele. Allora, intanto, Francesco, volevo dire che, a proposito di più voci, in questo libro c'è anche un'altra voce che racconta, che è quella di Edoardo Morciano, che è l'illustratore, tra l'altro leccese, quindi bui ieri, come te. Ecco qui. E assieme abbiamo ragionato molto sulle immagini e soprattutto su una cosa della quale sono molto orgoglioso, che è la mappa finale. Perché nelle mie storie, io faccio sempre molto attenzione. Posso farla vedere? Posso esibirla in camera? Eccola qui. Assolutamente. È un strumento, secondo me, fondamentale per entrare nelle storie, capire dove si svolgono. Quella mappa non è stata nemmeno semplice da realizzare, perché poi sono tante le informazioni da dare. Edoardo è stato molto bravo, insomma, nel darle in maniera garbata, giocosa. Guarda, da uomo del sud, penso che tu mi potrai capire, io sono nato a Napoli e ho vissuto la prima parte della mia vita in un coro di voci, sempre circondato da voci, soprattutto da voci femminili. Sai, ricordo queste grandi tavolate, la domenica, dove c'erano da una parte a un certo punto gli uomini che parlavano spesso alzando la voce, battendo il pugno sul tavolo, litigando o per il calcio o per la politica o per tutte e due le cose assieme. E poi invece, magari in cucino, sul balcone, mia madre, mia nonna, le zie, che parlavano spesso contemporaneamente, però riuscendosi a capire perfettamente, saltando da un discorso all'altro, una tessitura meravigliosa, davvero greca. Comunque restiamo una città della Magna Grecia da quel punto di vista. Io sono sempre stato affascinato proprio dalle vibrazioni sonore. Quindi quando scrivo in realtà la prima cosa che cerco è proprio quella vibrazione, cioè la vibrazione della voce. E in questo caso avrei visto, i racconti sono tutti dei monologhetti, sono scritti in prima persona, tranne il racconto dedicato ad Anne Frank. Perché in quel caso Anne Frank, una voce sua ce l'ha e che voce. Lei, se fosse sopravvissuta, certamente sarebbe diventata una grandissima scrittrice. Quindi in questo caso è un racconto dove io mi rivolgo a lei, parlo con lei. Quindi si guarda all'inizio delle storie e per me nasce sempre da questo, dà un mistero, perché per quanto ci chiedano sempre in ogni intervista sia agli adulti che ai bambini come mai hai scritto, noi mentiamo perché non lo sappiamo come mai abbiamo scritto quella storia e non un'altra. In realtà le storie un po' ti scelgono come le passioni. Però ecco, la mia curiosità è sempre per i fatti realmente accaduti e poi sui pesi della storia. Cioè mi sembra sempre quando leggo di un fatto che c'è un modo diverso per attraversarlo. Quello che in genere mi manca è il punto di vista degli esseri umani sui fatti. Qui ho cercato di tenere assieme questo punto di vista, quindi attraverso le voci. e poi l'altro tema sul quale ragiono ormai da tanto tempo con le ragazze e ragazze è la guerra. Esatto. La guerra che è questo evento che viene realizzato in maniera scientifica, molto calcolata, che però è sottoposta, come tutti i fenomeni umani, a quelle cose che noi non prendiamo mai in considerazione. In questo caso, per esempio, è il vento. È il vento che arriva a scompaginare ogni progetto. Voi sapete, sai che lo sbarco in realtà era previsto per un'altra data, ma viene rimandato. Viene rimandato perché la meteorologia insomma fa il suo lavoro, lo fa in maniera imprecisa, imperfetta. Anche i bombardamenti in realtà spesso cadono, come i volantini che ha aperto i bombardamenti, cadono sulle città sbagliate. Quindi c'è questo elemento che poi è la realtà della nostra vita, quello che noi riusciamo a calcolare e che noi tendiamo a mettere da parte. Come tendiamo a mettere da parte nel racconto le emozioni, le reazioni. Ecco, per esempio, io ho voluto raccontare il momento dello sbarco a Domaha, che come sappiamo è stata la battaglia più sanguinosa. Farò vedere però da tutti e due i punti di vista. E per renderci conto che allora, come oggi, i pensieri dei soldati su diversi fronti sono gli stessi. E se noi non riusciamo a comprendere che ciascuno in ogni questione, in ogni situazione, ha l'idea di essere nel giusto, di difendere qualcosa da un'invasione. Ecco, è difficile entrare in che cos'è, cos'è stato quel conflitto, che cos'è stata quella guerra. Credo sia la letteratura un buono strumento anche per fare questo esercizio mentale, cioè imparare a vedere le cose da tanti punti di vista. Quindi per questo motivo per me è fondamentale la coralità. E fammi aggiungere una cosa, che insomma questa scrittura e questo libro, questa volta, è potentemente cinematografico, perché insomma intanto i vari punti di vista, quando il racconto è dalla parte di chi sta per sbarcare, noi stiamo dentro la pancia di quella nave, ma non aggiungo altro. Mi si sono accese delle lampadine rispetto ad due film di Clint Eastwood che raccontano la guerra dai due punti di vista, lettera Iwo Jima, Flags of Our Fathers, e quello è il taglio, e quindi l'invito per chi ci guarda, per chi ci ascolta, e a prendere in mano questo libro, acquistarlo, regalarlo, leggerlo, perché insomma c'è la potenza del racconto che è anche cinema e questo insomma ci tengo anche ad aggiungerlo perché è un elemento ulteriore diciamo rispetto a questo nuovo libro di Daniele Aristarco. Cos'è la guerra, che effetto ha sugli esseri umani e come si può evitare e diciamo una sorta di sottotesto se vogliamo a questo libro. Daniele. Assolutamente. Sì, diciamo c'è ancora forse un altro sottotesto e cioè il fatto che molto spesso noi evitiamo di parlare della violenza e la guerra è quel sistema dove la violenza viene esaltata e premiata quindi ci consente di vedere questo elemento delle relazioni umane nella maniera più evidente però quella violenza della guerra è presente anche in altre relazioni anche in altri contesti nelle nostre città nelle nostre famiglie nelle nostre scuole quindi secondo me ragionare su quel macroevento ci dovrebbe aiutare anche a capire che cos'è che succede quando un conflitto degenera in scontro e l'unica cosa che noi abbiamo capito è che c'è un modo per evitare la guerra nel nostro continente noi l'abbiamo fatto alla fine della seconda guerra mondiale abbiamo messo seduti i capi di Stato europei e dopo un percorso lungo e complicato ancora in atto noi siamo arrivati ad un punto dove appunto per i nostri bambini e le nostre bambine una guerra in Europa è impensabile anche se fino a qualche tempo fa che la Francia e la Germania se facessero la guerra era la norma oggi noi tendiamo ad escluderlo adesso magari controlliamo le ultime ansa ma insomma tendere a pensare che proprio per questo lavoro che si è fatto noi siamo riusciti ad escluderlo quindi il lavoro da fare è continuare in quel senso da un punto di vista molto più semplice molto più banale quotidiano e noi dobbiamo imparare a fare questo esercizio cioè a essere disposti io credo che poi alla fine è questa insomma la democrazia quando ti siete a parlare con qualcuno dovresti essere disposto a cambiare idea e capire che se tu hai una posizione e l'altra persona ha una posizione opposta nessuno dei due farà prevalere la propria bisognerà trovare una terza soluzione non violenta pacifica e propulsiva però è necessario che perché le ragazze e i ragazzi capiscono questo fare un'operazione su che cosa è stata davvero la guerra perché se noi non sappiamo che cos'è quali sono i rischi e come funziona come annienta il destino c'è stato qualcuno che ha detto che ogni guerra è una guerra contro i bambini nella scena finale di questo libro i protagonisti hanno 14 15 16 anni sono loro a guardare attraversare le macerie e a dirsi e adesso che si fa e una delle risposte che dà una delle protagoniste beh c'è molto da fare e quello che io voglio fare adesso è comprarmi una bicicletta perché arrivo a questo intanto il personaggio che racconto che è la diciamo apre e chiude il libro che è Irene è ispirata ad una persona realmente esistita si chiamava Simone Sagan una ragazza che durante la seconda guerra mondiale è stata una resistente della resistenza francese la sua resistenza comincia perché l'episodio Francesca è reale le viene sequestrata una bicicletta dai nazisti e lei che come spesso le donne fanno proprio a questa violenza non ci sta decide di reagire come spesso fanno le donne cioè noi uomini in genere quando dobbiamo reagire un po' ci pensiamo poi ne parliamo con gli altri poi ci accordiamo e piano piano ci si può cambiare le cose lei invece va va a riprendere questa bicicletta va da sola in un cortile dove i nazisti hanno stipato i mezzi che hanno sequestrato ma quando prende la bicicletta poi si dice va beh ma forse posso fare di più posso bucare le ruote a tutti i mezzi dei nazisti in modo che siano almeno infastiditi abbiamo un piccolo danno ecco questa reazione è l'inizio di una disobbedienza che poi si organizza nell'esistenza francese ma noi per cambiare il nostro modo di pensare noi ogni giorno ci rendiamo conto delle cose che ci piacciono o non ci piacciono quando è che davvero reagiamo reagiamo quando ci rendiamo conto che c'è un modo diverso di affrontare le cose magari più semplice e che porta a un risultato maggiore un risultato concreto ecco questa cosa noi sappiamo che si chiama democrazia e che può funzionare se parliamo con gli altri se ci coordiniamo con gli altri quindi ecco quella storia secondo me deve servire insomma un po' come trampolino per riprendere quel discorso il tempo è volato purtroppo insomma staremo qui ad ascoltarti per sempre ma siamo in chiusura di questa trasmissione intanto come essere evento la giornata che mise fine alla guerra di Daniele Aristarco pubblicato da Mondadori Ragazzi Daniele insomma speriamo di incontrarci fuori insomma per continuare a raccontare le tue storie ma intanto l'invito è a leggere diciamo e a seguire anche sui social quando i social vengono usati bene diciamo Daniele Aristarco e il suo lavoro Daniele spero sia stato un buon tempo anche per te grazie per essere stato per essere tornato insomma a dialogare con me qui ad almeno due pagine al giorno è un onore è un piacere la tua professionalità e anche la passione che metti in quello che fai è cosa rara insomma è un tempo preziosissimo quello che mi è concesso